Credo che ci sia qualcuno che si vuole complimentare con te. Shalom, mazlitov. Ciao. Ciao, piacere, sono Noa. Pietro. Ciao, complimenti, sei stato bravo. Grazie, ma parli benissimo italiano. Grazie, ho studiato arte a Firenze per tre anni e adoro l'Italia. Israele, Italia, siamo vicini di casa qui al villaggio. E sei un atleta anche tu? No, io accompagno la delegazione e loro sono i nostri atleti. Lui è mio fratello. Con un fratello così nessuno ti chiederà mai il numero, immagino. Ciao, piacere. Ah, no, metti. Che vi ho detto? Io ho detto che devi trattarti bene perché sei uno dei migliori velocisti nella scena mondiale. Eh, eh, just the third, third, no gold. Molto bravo, ciao. Grazie, grazie. Dai, ragazze, torniamo in una stella. E' simpatico. Devo andare, ma complimenti, campione. Mi ha detto che è un fratello tra gli ostaggi che tu. Hanno preso 11 dei nostri, 11. Ma che cosa vogliono per rilasciarli, scusa? La liberazione di 234 palestinesi detenuti in Israele. E il mio governo non accetterà mai, mai. Ho paura, Pietro. Ho tante paura. E il mio governo non accetterà. E con una polizia. Cosa sono messi in testa? Qua è un piano di polizia. Ma che cosa vogliono fare? Ma un momento. Laida è si tratta di un'opera sicurezza di conoscenza di un'opera di terrorista. E' un'attività che si tratta di Joshua Azulai. No, 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 un po' contatto. Un po' contatto. Mi ho accade, no! Anche insomma, mi ho accade! No! 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 come down come... Joshua! Sara! Joshua! Bibi! 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 Joshua! Joshua! Bibi! Un! M.G. Susie! Can I get a hug? Bibi! C- When you hear the potency I'm just a daring of getting over Me! Swag it optional, it's composter I'm just trying to get where I'm supposed to B! Smell it like ambition Looking like motivation Smell it like ambition Looking like motivation Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti